Gridavano prima gli ultimi ma non hanno fatto pagare gli evasori. Chiedevano trasparenza ma non riescono a giustificare come hanno speso 30 milioni di euro. Invocavano prima lo sviluppo e il lavoro ma hanno speso 52 milioni di euro su 65 provenienti dalle royalties petrolifere in spese correnti invece che in investimenti. Hanno gonfiato le entrate, secondo la Corte dei Conti, per poter spendere di più e fare clientela. Partiti della Prima e della Seconda Repubblica? No, sono il Movimento 5 Stelle e indirettamente anche la Lega di Salvini, visto che il vice sindaco della Giunta Piccitto è oggi il coordinatore provinciale della Lega. Ad affermarlo è il Movimento Italia in Comune in una nota firmata da Gianflavio Brafa, Claudio Conti e Giuseppe Di Martino. Finora tutti hanno accusato il sindaco Piccitto e l'assessore al bilancio per questo disastro, ma hanno dimenticato colui che era chiamato tra i 5 Stelle il badante del sindaco, il vice sindaco, vero uomo forte della Giunta, Movimento 5 Stelle. Come minimo è corresponsabile di questo disastro finanziario, osserva Italia in Comune. Ragusa è stato il laboratorio dell'attuale governo. Qui si sono incontrate due culture, quelle al governo nazionale oggi, unite solo dal potere e per nulla diverse dal passato, intolleranti verso il dissenso, assolutamente incapaci a gestire alcunché per mancanza delle più minime competenze. Dichiaravano di voler fare i Napoleone, la rivoluzione, ma sono finiti a fare i Maternic e i Talleyrand, la restaurazione. Se Ragusa conclude Italia in Comune, è stata la sperimentazione in piccolo di un progetto nazionale, per l'Italia si prospettano tempi bui.